Sottili intanto mentalmente state molto bene soprattutto dopo questa vittoria esaltante forse sperata per come si era messa la partita nel primo tempo si nel primo tempo col Paermo diciamo la partita si era messa un po' contro di noi verso la loro parte poi nel secondo tempo siamo stati bravi nell'intervallo ad agire a compattarci tra di noi e a trovare addirittura poi la vittoria nel calcio d'angolo nei minuti finali è una vittoria che ci dà una grande spinta, grande morale però dobbiamo rimanere con i piedi per terra e andiamo a affrontare una squadra come l'Ascoli che in casa si fa valere e sarà una trasferta molto tosta beh in casa neanche tanto perché non vince dal 30 dicembre però che cosa sapete nello specifico anche l'Ascoli ha ripreso slancio dopo un periodo piuttosto delicato i sette gol subiti a Lecce quindi anche loro hanno dovuto dare per forza una svolta nella loro stagione e il nostro obiettivo assolutamente è quello di vincere la partita per proiettarci nelle parti importanti della classifica Pronto a giocare al primo minuto? Noi l'abbiamo detto da un paio di giorni potresti essere una novità sostanziale nel 4-3-3 a sinistra pronto soprattutto a sgommare su quella corsia Guarda io quando il mister mi chiama cerco di fare il massimo, dare il mio contributo alla squadra e domani speriamo di fare un'ottima prestazione di squadra Di squadra e questo indubbio è indubitabile, sei entrato molto bene in partita seppur per pochi minuti tra l'altro hai calciato un angolo magistrale No sì anche diciamo che per svoltare qualche volta non basta magari, non ci serve sempre un tempo una partita intera bastano pochi minuti perché alla fine nel ruolo che facciamo basta una giocata, un calcio d'angolo, una punizione, un tiro che ti può cambiare la partita come è successo col Palermo appunto Senti tifosi, questo comunicato vi dà ancora più forza, più convinzione Beh assolutamente quando è uscito il comunicato di ieri appena l'abbiamo letto è stato un grande entusiasmo e speriamo che vengono in tanti a sostenerci ad Ascoli È chiaro che adesso voi dovete cercare di consolidare i playoff nella migliore posizione possibile siete quarti in classifica in modo piuttosto sorprendente se vediamo altre formazioni No sì però ormai sei là che lotti per... poi non si sa se può Noi speriamo alla promozione diretta, se siamo qua ormai se si deve ballare si balla come si dice no? Quindi l'obiettivo più bello, il sogno che è di tutti i Pescaresi penso sarebbe quello di andare in A che sia diretto il passaggio della playoff insomma è questa la cosa più importante Grazie a tutti Grazie a tutti